Benvenuti in un nuovo video, allora scusatemi le condizioni ma come ben vedete sono a Rimini e sono a Rimini e ne approfitto per fare questo video. Volevo parlarvi, nelle storie di Instagram già l'avete intravisto questo orologino qui e quindi adesso è arrivato il momento di parlarvene. Una settimana fa, anche di più, sono stata contattata dal brand Morphito, eccolo qui e sono stata contattata e mi hanno chiesto se mi faceva piacere ricevere il loro orologio ho scelto io le colorazioni, allora sono presenti le colorazioni nero, che è questa qui che ho scelto blu e viola e quindi ho deciso di accettare per il semplice motivo che io, uno mi incuriosiva e già volevo acquistarlo, infatti Morphit rivende su Amazon. Io avevo messo già nella lista dei desideri di Amazon questo orologio però non l'avevo acquistato perché volevo acquistarlo insieme al cavalletto e quindi ho preferito fare prima acquistare il cavalletto e poi acquistare l'orologio. Il mio volevo regalarmelo per Pasqua però è arrivato anche prima di Pasqua sono stati davvero gentilissimi quindi io vi ringrazio ancora, vi mando un bacione. Volevo parlarvi un po' prima così e poi vi faccio vedere qualche clip della sera perché questo orologio qui si connette tramite l'applicazione che giorno per giorno vi dice comunque il battito cardiaco, vi dice di tutto. Quindi dopo vi lascio le clip dell'orologio. Io mi ci sto trovando davvero bene, la batteria non si scarica subito, io l'ho caricato venerdì o oggi è mercoledì o e la batteria sta ancora a 71% quindi è valido, si carica tramite il computer, infatti io vi faccio vedere anche le clip del computer, come si carica, come si smonta perché all'inizio ho avuto un po' di difficoltà però poi è semplice e quindi mi ci sto trovando davvero bene, vi conta i passi, vi conta il battito cardiaco, tramite l'applicazione potete regolare, potete inserire tantissime cose, potete fare le foto, veramente di tutto e quindi io ve lo consiglio e mi ci sto trovando bene quindi io adoro. Con questo orologio avete anche il codice sconto che è un bello sconto perché a prezzo pieno costa 38 euro, 37 euro, 38 euro, però col mio codice sconto il 20% lo pagate sui 29 euro e nessun orologio lo trovate a questo prezzo con queste funzionalità. Quindi io vi lascio alle clip dell'orologio, vi lascio all'applicazione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Questa è l'applicazione che voi dovete scaricare, all'inizio vi fa vedere i passi della giornata, per poi vi farò vedere anche il sonno e poi infine anche il battito cardiaco. Qui nella schermata dettagli vi fa il resoconto della attività di tutta la settimana, vi fa il resoconto anche del sonno e stessa cosa anche per il battito cardiaco. Di qui cliccando sulla voce dispositivo potete attivare avviso chiamate, che poi potete regolarlo ed è davvero utile. Poi avvisi sedentario, che io non l'ho attivato perché rompe un po', dice ogni volta fare attività, fare attività, bla 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 bla. Poi qui attivare la sveglia, infatti come potete vedere io ho attivato la sveglia, poi abbiamo la fotocamera, che voi potete fare una foto, io in questo momento stavo in Pullman e automaticamente vi rileva la foto anche sul vostro orologio. Vi porta la fotocamera e poi ve lo mette sotto, poi voi decidete di salvarlo oppure no e poi potete direttamente come un appendrive sul computer. Poi 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 vi porta altre voci e poi abbiamo sull'utente, vi porta il target, tutte queste cose qui. Cliccando sullo più centrale vi aprirà una serie di applicazioni, potete aggiungere la corsa che voi prima di andare a correre attivate e si attiva anche sul vostro dispositivo. La stessa cosa potete fare anche il tipo di attività, scegliere voi quale attività state per fare e poi ci sta il peso, è stato registrato, vabbè, le cose vostre che vi dice il peso e poi abbiamo anche la pressione sanguinea, quindi vi regola tutto, potete fare anche un test che io ancora non ho fatto. Questo è l'orologio, cioè è bellissimo veramente. Come vedete quando fate questa posizione si accende, allora, si accende qui, qui vi dice l'orario, vi dice i passi, vi dice la batteria e vi dice anche la data, oggi è lunedì, 25 marzo. Voi pigiate sempre e qua vi dice i passi, poi qui vi conta il battito cardiaco, qui la pressione e poi voi qui potete attivarlo dall'applicazione che vi ho fatto dire prima. Infatti abbiamo, aspettate, camminata, jogging, sempre uguale, velo e poi ritorno all'orario. Potete attivare anche la sveglia, io non so come non ce l'ho attivata, però voi dall'applicazione che vi ho fatto vedere potete attivare la sveglia, così la mattina vi suona anche l'orologio. Adesso vi faccio vedere come si smonta. Allora, voi prendete l'orologio, scusatemi un'unghia se un'unghia no, prendete l'orologio e dovete staccare qui, uno e due. Diventa come una, tipo una pendrive e questo qui dovete inserirlo nel computer e il vostro orologio si caricherà. Semplicemente nell'attacco per le pendrive, basta che le inserite e si carica. Un'ora e mezza, due e state a posto. Giù nell'info box, non rimaniamo staccato, giù nell'info box vi lascio il link dove potete acquistarlo direttamente, vi ripeto, su Amazon e vi lascio anche qui e anche sotto il mio codice sconto che è veramente un buonissimo sconto. È un orologio che io lo sto provando ormai, sono due settimane e mi sto trovando davvero, davvero, davvero bene. Quindi io veramente ve lo consiglio perché anche se non me lo mandavano l'avrei acquistato sicuramente proprio, infatti già stava nella lista di desideri. Quindi ve lo consiglio veramente e avete anche il codice sconto, quindi approfittatene veramente. Quindi io vi ringrazio ancora, sono davvero molto 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 contenta di essere comunque che questa azienda mi ha contattato, sono davvero tanto contenta. Vi ringrazio tantissimi e se acquisterete questo mio orologio mi raccomando tagliatemi anche sulle storie di Instagram e vi lascio giù nell'info box anche la loro pagina Instagram così potete taggare anche loro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!